Il cerchio si è chiuso. Dopo una lunga indagine durata quasi tre mesi, gli agenti della questura di Napoli hanno catturato il branco che lo scorso 9 dicembre nel quartiere Vomero ha aggredito e ha coltellato un minorenne che insieme con quattro amici, anche loro vittima dell'aggressione, erano appena usciti da un pub. Il ragazzino si salvò grazie ad un delicato intervento chirurgico dopo essere stato brutalmente colpito al petto da un fendente sferrato da un coltello a farfalla. Gli agenti, dopo indagini capillari e dopo aver visionato immagini di telecamere di videosorveglianza poste nel quartiere, hanno notificato quattro ordinanze cautelari a quattro ragazzini e due provvedimenti di fermo a due maggiorenni. Per gli inquirenti fermati sono tutti ritenuti responsabili di tentato omicidio e di lesioni ai danni di altri ragazzini.